Ciao a tutti ragazzi sono mercato e oggi siamo qui nel primo episodio della dark trilogy con e già il 36 Dopo questo inizio basta la serie può finire Questa che cos'è questo che cos'è questo che cos'è questo è questo è un fiore Della botagna metterlo nella cazzo intemolo e ti metti due petali verdi Boh! Perché mi si è sdoppiato? Mi si era sdoppiato vabbè guarda io sto laggando Io non... vabbè cominciamo Io ho fame io mi prendo queste Io prendo anche questa foto Oh si è rotto subito Andiamo al villaggio c'è un villaggio Comunque si ci intaglia perché se lo sta chiedendo questa è un'altra serie che metto sul canale Così a caso No 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 guarda è una serie che... Esatto No la facciamo con Angelo è un modpack moddato È un modpack moddato perché ci sono anche i modpack non moddati oh mio Dio Oh mio Dio Ok Bene Qui non c'è una cesta no Sono già il villaggio Ci ho perso merlo Sono già il villaggio Nooo Casa alla tinker Casa alla tinker Mia casa alla tinker Non c'è di usare la scena interessante Non c'è di usare la scena 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 Questa casa nostra Sfida di usare la scena Ah è ok cazzo Allora oh cazzo Ci sono tutti vi lascio in questa torre qua così A capire di usare la scena Ci sono tutti Non riesco più uscire Ok Questa è una torrella Questa è una torrella Sfida di usare la scena Questo è il giorno più bello della mia vita Abbiamo tipo un... Come faccio? Non mi si mette Ok Però c'è un piccolissimo minuscolo problema Io sono dentro Eh Vengo a salvarti Passarmi un blocco di terra Vengo a salvarti Vabbè comunque caricheremo un episodio a testa Quindi questo è proprio lo stesso episodio Ah no scusami Caricheremo tutti e tutti gli episodi Quindi sì GG Ho sbagliato Quindi tipo Era un crack Era un episodio a testa Quindi sì Passate comunque su tutti i due canali Perché se no siete delle cattive persone Perché ognuno li dedirà in un altro modo È possibile che uno va per esempio a fare un'altra cosa Esatto Bello Ho preso già il primo albero Qui c'è Oh rubberwood Oh qua ci stanno Qui c'è una crafting I cespugli I cespugli Crafting table E senti Io siccome io sto crependo di fame Eh Che ti siamo Uccidiamo stipo Tipo se tipo prendiamo un po' di Prendiamo un po' di legno E tipo faccio un mili taglio Eh io già ce n'ho quattro Eh Facciamo un po' di asce Facciamo un po' di legno Facciamo un mili taglio Aspetta No 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 Faccio io Aspetta Fai tu Io devo anche Aspetta Faccio un mili taglio Perché devo fare una cosa Ok Ok Meglio Dove sei? Qui sono Aspetta Ho staccato una cosa che non devo staccare Bello Ok GG Lui così Fa già tutto Ma perché a me non mi piacciono le accette in legna Te lo dico subito GG Ci sto No La accette in legno Sì Abbalsoia Che Cazzo Mo tipo trovo il ferro E non posso prenderlo GG Sai io mi devo piacere il microfono nuovo Perché questo fa un po' di fastidio Non ci fa caso No ma tipo Durante le registrazioni Perché non è Tu su TS non lo senti Però tipo Durante le registrazioni Questo fa Capisco Interessante Hai cobblestone Ah fai te Ok Eh guarda dentro la cosa Eh io sto qua Io sto qua tagliando un po' di legna Ah c'è la vei miner Aspetta Eh Oh ho ho fatto una micchietta Sì no volevo cliccare Oh volevo cliccare Oh c'è la vei miner Aspetta Voglio vedere una cosa C'è la vei miner Una gallina è cagata Oh No non c'è la vei miner Peccato Vabbè E c'è la fa Quindi le foglie tipo cadono in 10 minuti Lo so Lo so L'ho visto Quello l'ho visto Peccato che non sia da venuto Tu prendi un po' di legna Io sto qua a fermare legna E così poi mi sa che sta qua Che la taglierò Attenzione Me lo so ingrattato con la spalla Che cazzo Comunque se ci sono tipo alcuni alberi Che hanno Che hanno della specie di frutti Sul Non romperli Perché sti frutti poi crescono E possiamo prenderli e mangiarli Quindi Si riproducono E muoiono Esatto Oh Oh la la Come si mettono i capelli Eccolo Con l'h No Guarda cosa ho Dove sei? Aspetta Lo voglio mettere Aspetta Dove sei? Aspetta No Venga a prenderti Aspetta Sono villaggio Sto arrivando Dove arrivino Ti vedo sulla minima Qui c'è uno zombie Ma questo ha già la spalla Che cazzo Perché hai tipo gli tombi Gli cadono la testa C'è un altro C'è un altro Guardami Che cazzo Hai Mr. T Che cazzo è Sì è Mr. T Oh Gesù Poi c'è un altro cappello Che però Non so com'è Ho preso Tre pezzi di lana E basta Devo non cercare le altre Che ce n'erano Tipo un'altra Qui Ok Perché ho un cavolo Dove mica è venuto Ah ecco Ho sentito una regola Una sola Guarda sulla Guarda sulla minima Tanto le trovi Ci sono tutti i mob Ah giusto Me l'avevo scordato Eh ma è tipo Troppo piccola Non vedo Ah è grandissima Me l'avevi detto Me l'avevi detto Sgrandisci Ah quanto l'hai messato A 25 25 Ok Lo metto Io Gigi Gigi La troppa Ci sono troppe Polli Abbasso i polli Oh non so Di legno Oddio Lo scheletro Con il cappello Di Gesù Gigi Con il cappello Di Gesù Abbiamo i cappelli Di Gesù Questa Vaffanculo Così Ho sbloccato Un cappello Così a caso Eh fratello Ho un cuore e mezzo Sì E tipo mi inculeranno A sangue Dove sei? Eh no Scrivetelo Ah ma è tipo Staguita che dai Cavolfiore Ma si possono anche mangiare Dove sei che vengo A aiutarti? Oddio Aspetta No 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 Ti vedo sulla mappa Ti vedo sulla mappa C'ho 5 1 6 Ok ce l'ho Ma che cazzo è questo? Cosa? Arrivo No Tu cazzo sei? Wait 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 Sono caduto tipo in una casa Con una biega Arrivo 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 Ecco sono sotto di te Ah sei nella casa? No Cosa cazzo sei? Ah ok Cazzo Cazzo chi è? C'è uno scheletro C'è uno scheletro Ma c'è un cappello fighissimo Io? No lui Anche io Vieni qua Qua dentro Qua dentro Vieni dentro sta casa Beh è l'unica casa mia Eh vabbè vaffanculo che abbiamo caso C'è uno sanno 18 Prendo i libri Eh sì ma A me mi servirebbe la crafting Eh vai a prenderla Allì al posto dove siamo Cioè ci siamo accampati Valla a prendere tu Ho un cuore e mezzo Ok Ecco Arrivo Piazza la crafting Qua qua Scusa Va bene quella Eh nove pezzi Va benissimo Io tipo ho fame E cuocio questo Ok Allora Eh intanto Mi dare la No 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 C'è l'ho Cosa? No volevo dare la legna Però c'è l'ho Ah ok Allora GG Uno E due No Notte Oh ne Cocco Ne Eh Mi dai Hai della cobblestone Hai della cobblestone Eh uno Cioè devo andare Devo andare a prenderla Perché Eh volevo farmi un piccone io Eh un attimo No Ok vabbè io intanto Continuo a tagliare alberi Quindi Bum Parti noioso Eh tipo Parti nel Gamer HD Che cazzo What? Che cazzo Ma il bene è che non c'è nessuno Ah poi c'è la whitelist C'è la whitelist C'è la whitelist Non so come E poi dice sempre Left Non è gioinante Quelle stade No è le stade Basta Va bene Ma si L'importante è che Sto sa Ma poi comunque c'è la whitelist Quindi Cazzo Boh vabbè Bug Bug Sì 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 Ecco di Il piccone Che cazzo C'è Ah Pietro E mi fai anche un ascia Che l'ho finita Eh sì Ho uno sacco Ti tieni Ti tieni Ti tieni Ho uno sacco Il mento di legno Ti ero Ti ho lasciato Un'accetta Io c'è una padella In testa Che cazzo Ah 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 Ok Bellissimo Eh adesso io Mi piace Di andare a minare Come dei porci Adesso Eh mo ci andiamo Un attimo Quindi prendo un altro Padevo E sto andando Sì sì Vai Gigi Con la mia Sai cosa Mentre tu vai in caverna Io comincio un po' La tinker Visto che abbiamo Tanto legno Eh no Vabbè Facciamo un po' Oh carbone Tanto possiamo Cominciare la early game Eh Vieni a mandare una mano Che qua c'è un po' De carbone Intanto Sì qua Qua sotto Dove Ah qua sotto Qua sotto Ho fatto un buco Giusto per prendere Gobleston Prima Eh no Aspetta Aspetta Che il piccone Te lo faccio Te lo faccio Con la tinker Ok Eh io intanto Posso tutta Sta roba qua Perché non ce l'ho bisogno Ok Faccio due cose Easy peasy Super veloce Ok Merlo Intanto Fai I cosi Achievement Oh Odio Mi sono persi 85 libri Ok Mi sono persi Ma questa cosa mi ha droppato una pumpkin Come una pumpkin? Mi ha droppato due pumpkin Ma cos'era? Eh non lo so Dele piante per terra Che cazzo fa io? Eh mi faccio un posto Ah vabbè Allora alla fine Qua la casa di labio Poi la leveremo Ma si perché c'è poi la casa di un villager Mi piace Vabbè tanto poi vado in caverna Vado un po' Minatro però Ok E faccio un po' E faccio un po' E faccio un po' di cesti in più Intanto Intanto metto tutto Metto tutto la cazzo Tanto Sì vabbè Allora 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 tu vuoi un piccone Ti faccio un piccone Farò un po' cagare Però ti faccio un piccone Non è che Se hai trovato degli iron ore Te ne faccio uno più figo Mi trovi un iron ore Uno Cioè Non avevi trovato degli iron tu Sì ma lo devo andare a prendere Eh vai a prenderlo Ti ricordo dove stavo Ma perché con la R mi tipo mi da qualcosa Premo la R a caso Perché io sono abituato a spintare con la R Sì sono abituato a spintare con la R io E ti fa tipo Ti fa un tic 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 Eh tic 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 È perché sta cercando Di cercare delle recipe Del crafting Per l'oggetto che hai in mano E probabilmente non c'è Se tu provi a tenere in mano l'ascia No niente Scrazzato Ok Ho preso un po' di ferro Qua c'è già del Del copper Che posso anche prendere Ti faccio vedere come vino io Dove sei? No No Sto Ok senta Dove è la caverna? Qui mello Qui Guarda la minima Eh guarda la minima Ok Guarda la minima Vai 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 guarda in caverna Vieni in caverna Ecco su qui Sei tagliato Togliti What the fuck Sei scemo C'era c'era lì c'era la roba C'era la presa La presa C'era io il conf Ma che cazzo era? Allumentum Ma va fanculo Mi ha preso un colco Questo però comunque Questo è il marble troppo Cioè penso che non posso Cisallartelo Però vabbè Come minchia torniamo Abbiamo già Come minchia torniamo Come minchia torniamo Lì c'è un buco E si Lì Lì Guardami Qua Ah ok Cioè non c'è neanche un controller Questa cosa Ok perfetto Non posso farti il piccone figo Vabbè fa niente Non lo fai più Te lo faccio Eh intanto Intanto da mi Tipo Lo fai una La fornace E ti vuoi andare a prendere Nell'altra casa Che così Così almeno Non lo facciamo sto fermo Mi serve il cibo Cazzo l'avevo già fatto Ho fatto una patta Nel più che sbaglio Ok il cibo ce l'ho Fatto male un villager Ah guarda In una di In quelle ceste In una di quelle ceste Ci dovrebbe essere Del Del bollo Ora lo bocciamo Perché Ok Ma aspetta E Uno stick GG Ah scusa Allora Dove è tutta quella Ah la Adesso Ne Eccola Tieni Ok si fa le seghe Sembra uguale Ma è diverso Sembra uguale Ma è diverso Cioè sembra un piccone vanilla Ma in teoria Dovrebbe essere un po' più veloce Ok Ecc Ecc Allora Eh cuociamo Qua l'iron E qui Il bollo Che ora Trovo Dov'è Ok Otto di bollo Eh Il carbone Ce ne abbiamo 21 pezzi Un po' Utilizziamo Eh Otto Un carbone Qua c'è otto Perciò qua va bene Qua ce ne vogliono tre Mi prendo pure un po' di torce Perché se no qui Ok Quindi mi so che andiamo in caverna E ci Facciamo un po' di materiale Eh si Fatti un po' di torce Perché se no qua Si si Riportiamo Prendela Si 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 Ok Eh Quante Serve Eh un bel Eh Ah ma cazzo Ci servono anche le string Però aspetta 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 Le string C'erano Tipo una Due Eh no Ma ce ne servono Tipo un bel po' Eh vaffanculo C'erano Tu vuoi fare Delle cose Allucinanti Vuoi fare No ma le string La string Se io la metto Nella granzo Vabbè per intanto No ma aspetta Se io facessi questo Allora aspetta Adesso mi vengono le idee Malvagie Così Hai tirato una laggata bestiale Quanta lana ti serve Me ne servono Otto Eh ma sto piegando Quattrocento Non so perché Me ne servono otto Se vuoi fare tutto Se vuoi farle Per tutti e due Però vabbè Ma no ma Non andare Non andare Non lo serve Tanto ci servono Anche le stringhe Quindi Amen Sto allargando Grafterino Pura poi Sto pingando Sto pingando Seicento Ok Aspetta Tomino Ok Dovi vedere I materiali Che avevo trovato Sul mondo in singolo Ti impressionavi Avevo tutto C'avevo la tin Hopper Scavavo Mi trovavo Cose che dovevo Prendere Col piccone Più potente Ah qua c'è dell'ambre Ambra Vabbè ma non serve Una micchia Cioè Ne prendo Sarebbe Vabbè solo per fare Robene Poi figlie Eh tu cosa hai Eh io ho L'ambra Oh my god Cioè serve per fare Il copper serve Il copper serve tanto Il copper si Un bordello Eh allora C'abbiamo bucciato De culo perché Cosa c'è un po' GG Oh c'è 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 pure C'è uno scherzo Con un capello Oh lo voglio Oddio Io con questi occhi Sono un maraviglioso Guarda il mio capello Dove sei? Eh qua giù Sto arrivando Ma che cazzo è? È un Pokemon Ma ma È tenta È tenta Oddio Bellissimo Si calparlì Si calparlì Sono divertentissimi Che cazzo c'ha Sì Ma sono empici Cazzo Adesso penso che questo Sarà il primo video Del canale Con la intro di Hank Non so che ci pensiamo Cosa è un aeroplano No C'è un sacco di carbone Sì Avremo bisogno di quarto Pantro Ho il quarto Eh ho bisogno di Voglio il diamante Voglio il diamante Voglio il diamante Oh me lo son arrivato GG Eh possiamo farci la roba La roba Capito La roba La roba La roba Quello che ci moltiplica i materiali a mano Oh vai Eh no Eh quello lo fai tu eh Vai Sì no no Lavoro di mano Gioco da villano Che cazzo c'entra Torniamo Torniamo su Torniamo su Lo facciamo No ma io volevo la limestone Aspetta Non serve a niente Lo so Però faceva figo Solo per avere i materiali Ma sta caverna è finita Che schifo di caverna Sì è una caverna di merda Però aveva un sacco di coal E pure ferro Sì Eh sì sì È un po' di troppo Sette di ferro Io c'ho poi No No Ferro ne ho 18 Eh io ne ho 7 Conta che poi lo moltiplichiamo Eh menchia GG Già nel prossimo episodio facciamo la La merda La merda La merda Oh Bicenze Ok Io Ma lo sai per me parli arabo Sì lo so Ma Ma perché pianti i fottuti cespugli a random se poi quelli là danno cibo Dove? Non li ho piantati Io sono a casa Ah è salvo Ma perché io che devo che avevi fatto Cioè no Cioè che devo che di Faccio faccio una scaletta per salire Ok una scaletta spasticissima però Vabbè C'è una casa anch'io Eh io sono sotto a prendere del corpo Eh guarda cosa Guarda cosa dobbiamo fare per fare questa fottuta Foglio c'è qui Ok 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 Eh Ok si è stabilizzato il Feminade Perché prima non mi faceva 100 FPS Non puoi ce l'hai fatto Non puoi ce l'hai fatto Non puoi ce l'hai fatto Eh lo stavo a cuocere Mi sono sbagliato Eh me lo scordo Sai come è io S'abituato a cuocerlo Tiralo fuori dai fa niente Mi piazzo i letti Eh Sto facendo dell'astone Ok guarda nella crafting Quella che Ah tieni il coppere Aspetta Ah g Beh non mi sono messo Wait wait Intanto se lo dovevi smaterializzare Guarda nella crafting quella sotto se vuoi Aspettò sbagliato Vai Ah i gear I gear li so fare anch'io Quelli dai dai Poi così Poi così Così Ah che cazzo Così Ah c'è Boom Ecco cos'era Non me l'hai fatto niente vedere Dove la mettiamo Dove la mettiamo Dove la mettiamo Dove la mettiamo Boh non lo so Poi off camera Faccio la casa Aspetta che Ma what the fuck Che cazzo ci deve mettere Questo Mi direi a delle frizzate qualche volta Ok Ok questo che cos'è Un rubinetto Allora no Questa è una manovella Vedi io clicco col destro Guarda dentro Sì ho visto Sai Iron ore Adesso vedi che c'è la polvere Se cuoci la polvere ti da un lingotto a luna Ah vabbè però È uno spreco di materiale No Eh vabbè perché tipo Ok Non sapevo che stessi tormento Che fatto stai dicendo Perché calco Eh sì perché devi sprecare Cosa Un coso Un Un Coal Quasi otto pezzi Sì ma questo sta moltiplicando per due gli ore È uno spreco di più di carbone Però abbiamo più ferro Non so se Cioè se io Se io qua metto un iron ore Mi toglie due polveri E due polveri Sono due lingotti Quindi sono due lingotti da un iron ore Capisci? Ci da più ferro Sì vabbè quello ho capito Però io dicevo Nel senso C'abbiamo poco carbone Ah c'abbiamo poco carbone No C'è un 33 io Ce n'è uno star nella forza No c'è ne ho altri 34 E io ce n'è uno star che sente ancora Ecco punto Cioè ne abbiamo poco Cioè no no Era per dire Sì avevamo poco carbone Ah sì Sì aveva un poco carbone Ma infatti l'ho fatta Sapendo che ne abbiamo Ok gg Vuole se non l'abbiamo Vabbè questo poi comunque Off camera Grind tutti i materiali Quindi gg Non so cosa potremmo fare Ancora nell'epso Aspetta che penso Cosa potremmo fare ancora Ok La faccio subito La palla Vabbè la cobblest Ah ok Perito Tutta l'assa Palla fatta Allora Eh tiramela Però mi sta Laggando Eh qui sopra Sì guarda Sai cosa facciamo Sai cosa facciamo Beh intanto continuo a scavare Aspetta 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 C'è il carbone ferro C'è il carbone ferro C'è il carbone ferro Eh What the pentale ferro L'acqua c'era, eccola laggiù Alla sotto Che c'è qua tu? O cosa? What the fuck, bellissimo Bellissimo, non sapevo Si, infatti Io intanto vado a scavare di nuovo Perché tipo a gusto No, ho buttato un piccolo, un coglione Ok Si, ah no sono stato io Perché tipo What the fuck Lo vuoi un pezzo di Marble? Guardami Guarda, è con la pala Io piazzo la Marble Ah si l'avevo visto Me l'hai fregato Ah no Fa tipo troppo figo aprire il libretto Ok E la Oh gallina Gallina Vuoi morire Vieni qui Oh dove scappi Un'ora dopo Oh che cazzo Ah quello che ci serve Ah No Non lo sa Lo sa che io nel ledling ti metterò Two hours later Mining Quello che sto già facendo io Perché? Aspetta, aspetta Che cos'è l'alluminium? Si serve? Eh, giù Mi piacciono due Alluminium Seedinkers Construction Aspetta, aspetta Salgo, aspetta Saldi, saldi Eh, anch'io Vabbè, ci mettiamo poco, dai È possibile che anche lo divido in due parti Dipende da come mi gira Vabbè, perché te Fai 20 minuti di video In verità le persone Non vedono mai 20 minuti di video Perchè abbiamo messo a cuore della stone Ah, rocket Hox, hox Eh Perciò bene Questo episodio è tutto Della Lark Trilogy Sì, vado su Proprio ferro abbondante Pene abbondante Anch'io Ciao 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 Ciao